Dal Vangelo secondo Giovanni Se uno osserva la mia parola Non sperimenterà la morte in eterno Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti Chi credi di essere? Rispose Gesù Se io glorificassi me stesso La mia gloria sarebbe nulla Chi mi glorifica è il padre mio Del quale voi dite è nostro Dio E non lo conoscete Io invece lo conosco Se dicessi che non lo conosco Sarei come voi un mentitore Ma io lo conosco E osservo la sua parola Abramo vostro padre Esultò nella speranza di vedere il mio giorno Lo vide e fu pieno di gioia Allora i giudei gli dissero Non hai ancora cinquant'anni E hai visto Abramo Rispose loro Gesù In verità In verità io vi dico Prima che Abramo fosse Io sono Allora raccolsero delle pietre Per gettarle contro di lui Ma Gesù si nascose E uscì dal tempio E uscì dal tempio E uscì dal tempio